Acqua preziosa risorsa del territorio. Vediamo oggi i dati che attestano la qualità dell'acqua di quanto esce dal nostro rubinetto di casa. I risultati riportati rappresentano le medie sulle analisi effettuate da Etra. Ogni anno 50.000 prelievi da analizzare e 2.200 campioni sull'acqua potabile. La durezza totale ha un valore di 18 gradi francesi. Il pH ovvero l'indicatore di acidità è di 7,66. Il residuo fisso che esprime il contenuto salino dell'acqua si attesta a 217 mg per litro. Il calcio ha un valore di 51,8 mg per litro. Il cloro residuo è inferiore a 0,05. Ancora il magnesio è a 12,4 mg per litro. Il valore del potassio inferiore a 5 mg per litro. I risultati del monitoraggio interno dell'acqua potabile erogata sono disponibili sul sito internet www.etraspa.it in cui è possibile trovare le principali caratteristiche dell'acqua comune per comune.